a ti speciano un iscritto anche se non l'ho mai fatto iscrivete al canale e facciamo la prima mia action delle prove a non ridere ciao con alex cosa è successo non riderò mai potete farlo ma è volato maionese no 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 perchè rido no 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 Grazie. Perchè? Credo che non Doveva succedere questa cosa Dell'andamento però Ok Ciao Al prossimo video Iscrivetevi al canale